Quindi questo è l'episodio numero 3, 4, 5, va bene, episodio sonar Silver non c'è, io ho dimenticato di caricare batteria e adesso io devo sparire per le prossime 3 ore Sperando che riusciamo a trovarci tutti insieme lì Non capisco, prossime 3 ore Adesso devo andare a coppare il 14 mm perché nonostante io non voglia è una lente che mi serve E a svegliare Loris, bene, bene Oh mio Dio, sto bloccando a rivedermi E ho il fuoco su di me Per una volta E sempre come sempre E adesso aspettiamo le ragazze che sono in ritardo Ma sono anche in ritardo quindi perfetto Andiamo a berci qualcosa al sonar Ultimo vlog, sonar, siamo pronti Ok, ok, già faccio, camminare indietro Ciao Ciao Siamo pronti, siamo cari Notate, siamo anche in bandana Giorgia vai di culo, eccola, perfetto Ritardo attario, come è andata Il giusto Ok, allora Non è preso Ma dovremmo stare un attimo perché devo mettere tutta le spille Ok Ehi la Hyper backstage Questa sarà la prossima puntata di Conquerenze Libri E ragazzi Io faccio un bicchiere, io ero lì E io Eh, Nix mi bruda dietro No, non rimetto dentro Rimettilo dentro C'è il registro Vai Ma se non lo dici così non riesco Perché poi mi imbarà come prima Che era bellissimo Io voglio dire Semi-nick 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 Tu lo sai che ci sei dietro, vero? Mi brudale 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 You Yeah Socialnik Fede fammi una micata sexy Nick Brudal Allora, abbiamo finito le riprese, abbiamo finito il photoshooting, adesso vediamo, ciao Nick, siamo Kiss Me Brudal, è un onore per noi essere qua in compagnia di Kiss Me Brudal, siamo brutal anche noi, siamo un po' brutal anche noi diventati, quindi siamo perfetti direi, Nick assai, che ci fa le fotoserie, Dov'è Max? Ringraziamo Max per tutto questo, se non ci fosse stato lui sarebbero molto più sobri, soprattutto Bene, adesso ragazzi ci rimedi sintonizzati su con quelli di Brudal, raccomando, vi raccomando Signor video montato, finito, subito, insta, pinta, Nick dove sei? Nick che dorme? Di domenica, sabato sera, se ti inquadro male, domenica, 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 si riesce a far festa, si va a dormire, adesso vado in giro e faccio del video a tutti, tutti, e tu vieni con me, oh sì, oh, ciao, 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 c'è Nick dorme Quindi, bene, è abbastanza approcione questo, eh, ecco dopo Ciao, 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 ciao 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 Più! Erizi! Vieni a me mazza! Go!